E' un atto d'accusa quello lanciato dal Movimento Evoluzione Civica nei confronti dell'amministrazione comunale Rea, addetta del coordinatore Gaetano Penna, di mostrarsi disattenta alle periferie della città. Si accusa molte periferie, ciascuna periferia i suoi problemi, alcuni risolvibili, alcuni incancreniti da tempo. Quello che voi ritenete è che l'amministrazione a vostro dire non faccia abbastanza? Assolutamente sì. Oggi la conferenza stampa verte sul tema della discriminazione delle periferie a Siracusa. L'oggetto specifico sul quale noi vogliamo mirare la nostra attenzione è quello che l'amministrazione non ha quella forte attenzione che in campagna elettorale con i dieci impegni si è voluta prendere. Quindi noi oggi puntiamo l'indice contro l'amministrazione dicendo che nulla si fa per valorizzarla, per modificare quello status quo che da molti anni subisce alcuni quartieri periferici come la Mazzarrona, come la Borgata. Quindi noi classifichiamo, facendo una metafora calcistica e parafrasando una metafora calcistica, consideriamo quartiere di serie A, quartiere di serie B e quartiere di serie C. Questo è impossibile. Verrebbe proprio da dire che il quartiere discrimina chi vi abita e questo è gravissimo in una realtà sociale come la nostra, in una città come la nostra, dove effettivamente percorrendo le strade si nota palesemente tutto questo e noi lo dimostreremo anche con delle immagini. E non è corretto perché l'amministrazione tra i primi impegni dovrebbe proprio attenzionare le periferie perché sono dense di popolazione con problematiche gravissime.